Potente preghiera a Santa Teresa di Calcutta Lei ti aiuterà Madre Teresa, conosciuta anche come Santa Teresa di Calcutta, è stata una figura straordinaria nel panorama mondiale. Nata in Albania nel 1910 e trascorsa gran parte della sua vita in India, è diventata un simbolo universale di compassione e altruismo. Fondatrice delle Missionarie della Carità, ha dedicato la sua vita ai più poveri tra i poveri, offrendo loro cure mediche, cibo e soprattutto amore incondizionato. La sua umiltà, la sua dedizione e la sua capacità di vedere il Divino in ogni persona l'hanno resa un'icona di speranza e ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Teresa di Calcutta, che nel tuo desiderio struggente di amare Gesù come non è stato mai amato prima, ti sei donata totalmente a Lui, senza mai rifiutargli nulla. In unione al cuore immacolato di Maria, hai accettato la chiamata a saziare la sua sete infinita di amore e di anime e a divenire portatrice del suo amore tra i poveri. Con amorevole fiducia e totale abbandono tu hai compiuto la sua volontà. Sei diventata così intimamente unita a Gesù, il tuo sposo crocifisso, che Egli, sospeso sulla croce, si è degnato di condividere con te l'agonia del suo cuore. Santa Teresa, tu che hai promesso di portare la luce dell'amore a coloro che sono sulla terra, prega affinché anche noi desideriamo saziare la sete ardente di Gesù con un amore appassionato, condividendo con gioia le sue sofferenze, e servendolo con tutto il cuore nei nostri fratelli e sorelle, specialmente in coloro che, più di tutti, sono non amati e non voluti. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie a tutti.